Tre modi per fallire negli investimenti immobiliari. Ci sono naturalmente molti modi per fallire nel fare investimenti immobiliari e se mi stai seguendo da un po' sai che io cerco quasi sempre di condensare all'interno di tre punti i vari video e le vari live come in questo caso che faccio per essere più sintetico e dare dei punti di riferimento più specifici. Quindi ho pensato di parlarti di quelli che sono secondo il mio punto di vista i tre errori peggiori che si può fare quando ci si approccia al mondo degli investimenti immobiliari. Allora il primo è secondo il mio punto di vista come dicevo prima la ricerca. Cosa intendo per la ricerca? Molto spesso si cercano gli affari ma gli affari si cercano dappertutto e questo potrebbe essere sicuramente un problema. Anzi lo è te lo dico per esperienza personale perché ci sono passato anch'io da questo problema. All'inizio quando svolgevo le mie attività cercavo l'affare quindi non mi focalizzavo su quello che poteva essere la definizione di una zona all'interno della quale operare ma cercavo l'affare dappertutto a prescindere. Quindi cercavo di trovare un immobile che avesse un prezzo basso un prezzo a sconto per poterlo comprare e fare la mia operazione. Però questo non è sempre la cosa migliore anzi in alcuni casi è proprio la cosa peggiore. Perché se tu cerchi soltanto l'affare ti focalizzi soltanto sul trovare qualcosa che abbia un prezzo basso ma non è detto che quell'immobile poi abbia le potenzialità per essere rivenduto e per farci un utile. Molto spesso vedo soprattutto chi si approccia da poco a questo settore magari che trova un'operazione a prezzo basso ok hai comprato a sconto hai comprato un prezzo molto basso ma poi è un immobile che non riesce a vendere perché in quella zona magari non c'è richiesta. Magari non ci sono volumi quindi è molto importante prima di focalizzarsi sull'affare essere a conoscenza di quello che è la zona all'interno della quale andrai a operare ed essere a conoscenza del target di vendita al quale andrai a proporre l'immobile perché non dimentichiamoci che noi soprattutto chi fa proprio trading quindi chi compra le strutture per vendere è necessario che sappia esattamente a chi andrà a vendere l'immobile prima ancora di confezionare l'operazione. Questo diventa molto più semplice quindi uno dei punti che ritengo possa essere il più difficile da poter gestire è proprio quello di cercare dappertutto ma siamo un po' spinti all'inizio proprio nel farlo perché magari andiamo nelle zone più appetibili non troviamo nulla e ci spostiamo in zone meno interessanti per trovare l'affare. È vero che magari lì puoi trovare l'affare ma poi non riesci più a gestirlo quindi è molto importante fare una selezione a monte e non cercare dappertutto ma cercare esclusivamente nei posti dove sappiamo che possiamo poi rivendere quindi dove ci sono volumi e c'è interesse per acquistare in quelle zone. Intanto vedo un po' di persone saluto Salvatore Fortuna, Elena Minassian, Marco Giorgi, Andrea Di Nanno. Ragazzi buona serata a tutti. Allora il secondo punto da evitare la seconda cosa che secondo il mio punto di vista è veramente sbagliata è quella relativa al prezzo. Cosa intendo per il prezzo? Intendo il definire esattamente qual è il prezzo di rivendita dell'immobile. Qui cascano tantissimi aspiranti investitori immobiliari perché si fidano di quello che magari gli può dire l'agente immobiliare, di quello che hanno sentito dire da altri operatori ma non funziona così. Questa è l'unica attività secondo il mio punto di vista che non si può assolutamente delegare a nessuno. Questa è l'attività che deve fare in prima persona l'investitore immobiliare quindi sarai tu a dover definire e decidere esattamente quale sarà il prezzo corretto di rivendita. L'agente immobiliare sicuramente ti potrà dare una mano, ti potrà dare degli spunti ma la responsabilità nell'individuare il prezzo di rivendita è esclusivamente tua. Tieni presente che gli agenti immobiliari alcuni sono abituati a lavorare con gli investitori e sanno quali sono i parametri che servono per poter sviluppare un'operazione. Altri che magari non hanno esperienza di collaborazione con gli investitori immobiliari magari ti danno dei parametri più orientati sulla compra vendita classica perché magari non sono proprio a conoscenza di tutti quelli che sono i passaggi e di tutti quelli che sono i costi ai quali dobbiamo andare incontro per poter sviluppare l'operazione. Quindi ragazzi vi suggerisco assolutamente di evitare di far decidere ad altri quello che è il prezzo. Il prezzo lo dovete decidere esclusivamente voi in quanto siete voi gli investitori immobiliari e nessun altro può decidere qual è il prezzo al posto vostro. Il terzo punto è il conto economico anche qui spesso molto spesso vedo delle situazioni del tipo l'aspirante investitore immobiliare diciamo con la voglia di fare operazione e magari non ha trovato ancora niente di interessante va a creare un conto economico anziché conservativo come dovrebbe essere. Quindi se hai una spesa di 5.000 per l'elettricista magari metti 6.000 se hai una spesa di un certo tipo cerca sempre di gonfiare i prezzi soprattutto se non hai esperienza. Invece spesso vedo aspiranti che di fronte a un conto economico o di un'operazione per cercare di farlo uscire forzano questi numeri. Cosa intendo per forzare i numeri? Intendo indicano un prezzo di rivendita molto più alto di quello che è la realtà quindi cercano di vedere più bello quello che potrebbe essere l'immobile. Dicono no ma questo se io lo ristrutturo in un certo modo prendo di più di quanto vale. Queste sono delle illusioni che inserite all'interno di un conto economico fanno veramente dei danni. E te lo posso dire perché anche su questo per fortuna purtroppo ci sono passato negli anni passati. Quindi è molto importante essere molto molto conservativi quando si fa un conto economico. Quindi tutti i parametri di spesa aumentarli e il parametro relativo al prezzo di vendita di realizzo di abbassarlo. Se riesci a confezionare un conto economico di questo tipo se le cose vanno meglio sarai sicuramente contento. Se le cose andranno peggio guadagnerai un pochino meno ma se tu hai forzato troppo questi numeri e hai spinto tutto verso l'alto rischi di non solo non prendere quanto avevi pensato ma anche di perderci. Quindi questi secondo il mio punto di vista sono i tre punti sui quali ragionare di più. Sono i tre punti che ti permettono di fare il successo o il fallimento di un'operazione di trading immobiliare. Ragazzi non so se avete qualche domanda anche perché con questo software non riesco quasi a vedere nulla vedo soltanto chi sia collegato. Se riuscite a scrivermi sotto rispondo alle vostre domande altrimenti vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Credo che non ci si può non riesco a vedere niente ragazzi dai non riesco a vedere quello che sono i vostri commenti. Quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao a tutti.